Maggiore Movimento Notap, come mai oggi qui? Il Movimento Notap aderisce, essendo la TAP un'opera clima alterante, a un'iniziativa nazionale che vuole, lungo tutte le spiagge e le coste dell'Adriatico, da nord a sud, un flash mob, un'iniziativa per spiegare che cosa sta succedendo e perché non vogliamo che questo mondo finisca tra 10, 20 o 30 anni. E' chiaro che un'opera come la TAP è estremamente clima alterante, sia per come viene utilizzato il gas, ma anche per il trasporto. Il metano ha una capacità clima alterante dal 25 al 40%, a 40 volte in più rispetto al carbone, sia per gli impatti della costruzione di questa grande opera. Quindi noi ci proponiamo di alzare l'attenzione su queste opere che vengono proposte come il bene assoluto. In realtà poi si dimostrano quello che sono, c'è una speculazione.